Quindi questa è Villa Casati Castoldi, io leggo che c'è un corpo a L originario che è interno qua, quello è originario e quello è originario. Già presente nel Catasto Teresiano anche quello del Settecento? Tutto questo è presente nel Catasto Teresiano, questa parte. E qui dice che questa è costruita dopo. No, io ho visto che ci sono ancora. Addirittura quando è stata ristrutturata, mi diceva Castoldi, che hanno sfondato il muro delle soffitte e si collega con la villa accanto e c'è addirittura il simbolo della massoneria.